Poi abbiamo parlato di un altro tema importante che è quello delle sale giochi, anche qui creeremo un tavolo comune tra Comune, Prefettura e Questura per studiare l'attuale regolamentazione che dà ovviamente non molto spazio all'amministrazione comunale perché sapete che licenze di questo tipo sono licenze della Questura e poi la normativa è talmente ovviamente verso la liberalizzazione che con difficoltà anche un questore può mettere dei vincoli. Io ho anticipato che l'amministrazione comunale sta studiando un regolamento dal punto di vista urbanistico e normativo in modo da limitare fortemente l'apertura di nuove sale in tutto il territorio tenendo conto dei criteri di residenza, vicinanza alle scuole, vicinanza alle chiese e penso che questo sia un tema importantissimo su cui l'amministrazione comunale vuole investire. C'è una novità relativa a una sentenza della consulta proprio di questi giorni che darebbe la possibilità al Sindaco di fare delle limitazioni sulle problematiche legate all'orario di queste sale e quindi su questo noi lavoreremo fin da subito.